Ehi salve, io sono quello che tiene insieme la baracca, che è più difficile di quanto sembri. Kermit riesce a tenere a bada ognuno di noi, il che è splendido perché questo gruppo va facilmente fuori controllo. Fuori controllo! No, Enimo, lo aspetta! Kermit! Ehi, non è un segreto, fra me Kermit c'è del tenero. Kermit, Kermit, Kermit! Il Muffet, al cinema!